Grandissimo successo da tutti i punti di vista per l'arrivo di Pop Sofia e il debutto ancoretano alla Mole Van Vitelliana degli spettacoli filosofico musicali dedicati al Natale e al futuro, inediti ideati e realizzati dalla direttrice artistica Lucrezia Ercoli. Siamo molto contenti, stupefatti della risposta di Ancona, della risposta del pubblico di Pop Sofia venuto da tutta la regione in queste due straordinarie giornate alla Mole Van Vitelliana di Ancona. Il bilancio culturale di queste due serate mi rende felice perché siamo riuscite attraverso la musica dal vivo attraverso l'immaginario, il cinema, le serie tv a raccontare lo spirito natalizio che poi è un po' lo spirito di Pop Sofia in questi giorni. Sul palco per i saluti l'assessore regionale alla cultura biondi e l'assessore alla cultura di Ancona Bertini che ha annunciato un regalo extra alla città, una terza data in programma il 27 dicembre che compone un'ideale trilogia di filo show delle feste dal titolo Tanti auguri e dedicata a Raffaella Carrà. Sicuramente un grande successo di pubblico, anche una grandissima qualità, quindi Pop Sofia sotto questo punto di vista non tradisce, non delude mai, un festival assolutamente sostenuto dalla regione Marche. Una rispondenza ad un'offerta che è stata fatta importante ed immediata, quindi significa che la città risponde che l'evento era un evento che ha accolto il plauso del pubblico. Sabato 16 la direttrice artistica Lucrezia Ercoli ha dato il via allo spettacolo dal titolo Caro Babbo Natale alternando la narrazione tra i tanti aspetti del vissuto individuale e collettivo. La mole è stata anche testimone della rivelazione fatta dall'astrofisica e scrittrice fantasy Licia Troisi che ha affrontato il tema del Natale dal punto di vista scientifico. La letteratura è stata invece al centro degli altri due interventi delle scrittrici ospiti Giulia Caminito con uno stralcio del suo nuovo romanzo e Giulia Cerapica che ha ripercorso il etopos del Natale attraverso gli scrittori del passato. Anche la mostra Bello e il brutto e brutto il bello visitabile in presenza attraverso i visori VR nella galleria modulare e virtuale di Mega ha fatto registrare il tutto esaurito di prenotazioni. Domenica 17 è stata la volta del secondo filo show del titolo Caro Amico Te Scrivo una serata dedicata all'avvenire con la musica immaginaria di Lucio Dalla e le parole della filosofa Lucrezia Ercoli e del critico musicale Carlo Massarini l'indimenticato Mr. Fantasy. Un viaggio nelle storie visionarie delle canzoni di Lucio Dalla dagli esordi fino allo scatte alternando reale su reale libertà e tetralità.